Un'ondata di maltempo ha investito le Marche per un impulso freddo dal nord atlantico che sta attraversando in queste ore il centro-sud Italia con rovesci e temporali anche forti che hanno colpito la scorsa notte parte del nord-est. Attualmente ritroviamo rovesci e temporali sparsi al centro-sud ma in modo particolare tra Marche, Umbria, Lazio, Abruzio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Nelle Marche particolarmente corpita la fascia costiera sia nella provincia di Pesaro che nell'Anconetano. A Fano in realtà non sono state le piogge a causare criticità ma il vento le cui raffiche hanno toccato punte anche superiori agli 80 chilometri orari. Questa mattina tutte le strade erano un tappeto di ramaglie e fogliame caduto dagli alberi rendendo particolarmente insidioso in manto stradale. A Fano come è anche a Pesaro le squadre dei vigi del fuoco sono state fuori tutta la giornata a ciclo continuo per liberare le strade dai rami e dagli alberi pericolanti. Nessuna però situazione particolarmente grave ma interventi diffusi su tutto il territorio. A Pesaro tra Sant'Angelo e Lizzo e Leggine Stretto un grosso ramo è caduto su di un camion in transito fortunatamente senza conseguenze fisiche per il conducente ma strada bloccata ed intervento dei vigili del fuoco per alcune ore per liberare la strada. Chiusa in più punti sempre nel Pesarese la provinciale 57 e poi in città diverse decine di grondai e sottotetti sono stati messi in sicurezza. A Fano il vento in via della colonna ha abbattuto un insegna di un supermercato e non sono mancate le cadute rami come in via 4 Novembre o in via Papiria lungo il canale Albani dove si registra una vera strage di rami. In via San Lazzaro un albero è caduto al centro della rotatoria e diversi problemi ai vari cantieri dislocati in tutta la città come quello all'interno del centro commerciale di San Lazzaro dove il vento ha divelto un'impalcatura. Stessa sorte per il cantiere nella rotatoria di via Roma e su piazzale Amendola. Gravi problemi anche all'illuminazione pubblica con un gabbiotto dell'Enel in località torno distrutto, diversi lampioni abbiattuti in tutta la città ed un palo della luce diverto in via Ruggeri. Polizia locale e vigili del fuoco continuano a monitorare le zone maggiormente colpite dal maltempo come anche nell'Orcianese per un grosso ramo che ostruiva la carreggiata o a Pian di Rose dove in via Riva Tarugo probabilmente per il fondo stradale reso viscito dalla pioggia e un'auto è uscita di strada cappottandosi e finendo in un campo. Super lavoro quindi per i vigili del fuoco in tutta la regione, disagi all'ospedale civile anche a Senigallia mentre a Marina di Montemarciano un palo è stato diverto dalla forza del vento ma trattenuto dal semaforo che ha impedito la caduta sulle auto sottostanti. Alle 13 in provincia di Ancona risultavano svolti 12 interventi e 53 erano in coda. In provincia di Pesaro Urbino gli interventi sono stati 22 svolti mentre 51 erano ancora in coda e in via di smaltimento.